Ci vediamo anche quest'anno di intervenire a eventi tematici di cui spesso sentiamo comunque l'esigenza proprio per approfondire alcuni spicchi della nostra attività che spesso non appartano in maniera evidente macroscopica soprattutto quando ci troviamo di fronte a delle situazioni emergenziali. Oltre a portarvi il saluto da Regione Abruzzo, Presidente D'Alfonso a questo importante evento con un legno di approfondimento, volevo sottolineare anche e soprattutto questo aspetto. Io ormai sono abituato insieme al capo della sala operativa, sigo l'imperatore di stare a diretto contatto con il mondo del volontariato e sono benissimo non manco mai di sottolinearlo come anche e soprattutto nel sistema della protezione civile regionale, il volontariato rappresenta con la spiena dorsale nel sistema stesso. Davvero la parte importante di tutto l'edificio e quindi credo che questo ruolo...